Il messaggio che si deve mandare all'esterno è che la scuola va sempre avanti, a prescindere dalle contingenze politiche e contingenze momentanee. Dopo il maxifurto era subito scattata una vera e propria gara di solidarietà, una rete fatta di genitori, imprenditori e cittadini. E oggi sono 300 i tablet che sono stati riconsegnati agli studenti dell'Istituto Comprensivo Margaritone. È stata la solidarietà importantissima, anche il Ministero ha contribuito con un fondo PNNR, quindi per le classi 4.0 e siamo riusciti a riportare tutto all'ordine. Il furto lo scorso settembre a poche ore dal suono della prima campanella. I ladri avevano fatto sparire il materiale elettronico circa 100 tablet per un valore di almeno 70.000 euro. Colpo che aveva messo a rischio la didattica innovativa. Adesso finalmente può partire il progetto Classi Digitali. Come ci faresti? Giochi matematici, perfetto. Ovviamente non è sostitutiva della didattica, ci tengo a precisare. È un nuovo modo di fare didattica che si avvicina di più ai ragazzi, a questa società che è completamente diversa dalla scuola che abbiamo fatto noi. Quindi è una strumentazione importantissima e poi è anche una sfida importante per i ragazzini in difficoltà. Sempre nello stesso istituto, lo scorso ottobre una spaccata bis, per fortuna con i ladri scappati a mani vuote. A dicembre delle mire dei malviventi, i distributori automatici di merendine, completamente distrutti per essere scassinati. Quindi la richiesta di maggiore sicurezza ha portato all'attenzione del comune di Arezzo. Il comune risponderà con una messa in sicurezza di un'aula, non voglio dire dove. Grazie. Grazie. Grazie.